Il sindaco Biancheri ha divulgato sulla sua pagina Facebook un video contenenti le immagini più significative della settantesima edizione del Festival di Saremo e che sta riscuotendo un gran successo in visualizzazioni. Una manifestazione da record non solo per i dati ottenuti dall'audience ma anche per le migliaia di persone che in questi giorni sono giunte in città. Quindi non solo alberghi pieni ma anche tantissima gente che ha voluto godersi ogni momento della Kermesse Canora ed è il comune stesso che ci fornisce alcuni dati. Vale a dire che nella serata finale di sabato hanno ruotato nelle vie cittadine intorno al grande vento oltre 60.000 persone, tra residenti, turisti, appassionati, molti dei quali giunti nella città dei fiori in treno. Cittadini che hanno invaso il centro conquistati anche dal megapalco di Piazza Colombo e dai concerti in piazza. Alla fine di questa incredibile settimana aveva scritto Biancheri, tiro un attimo il fiato, raccolgo i pensieri, mi guardo indietro e penso che si sia davvero fatto qualcosa di straordinario. Questo festival dei record che rimarrà nella storia e lo specchio di una città che da anni continua a crescere con forza e determinazione. Ringraziamenti ne ho fatti tanti in questi giorni, ne ribadisco uno. Ringrazio tutti i miei concittadini, protagonisti insieme a noi, nell'aver presentato agli occhi del mondo una Sanremo fantastica. Ringraziamenti ne ho fatti tanti in questi giorni.